Sono tutti giovanissimi alcuni di loro studenti universitari e del Conservatorio Casella, i finalisti di Vale, valorizzazione artisti locali emergenti 2019, rassegna curata con successo da anni ormai dall'Associazione Laboratorio Dietro le Quinte di Piero Cerolini. Si esibiranno il 6 giugno nel Teatro Nobel per la Pace di San Demetrio con inizio alle 21 ed ingresso gratuito. Blaui è il nome d'arte di Matteo L. Boro, ispirato ad una canzone di Bob Dylan. Quattro diciottenni aquilani che presenteranno brani propri a cavallo tra musica pop ed elettronica. Eseguiranno anche brani con test in italiano che citano Bob Marley a dispetto di sonorità lontane dal reggae. Sul palco, con loro entusiasmo, anche un sax. Amelia, invece, è il nome d'arte di un cantatore solista, già noto nel centro Italia, con tante performance, da solo o con la sua band. Musicista dalle sonorità profondi e dalle grandi potenzialità. Nel 2018 ha composto un brano dedicato all'Aquila. Nel 2019 uscirà il suo disco di esordio. Thousand Years Between proporrà invece brani propri in inglese, composti in sei, dicono di loro. Quattro musicisti, una bottiglia di Genziana ed una di Montepulciano. Nei loro brani, contaminazioni di rock moderno e alternativo, in una solida base di rock classico, con bene vintage d'oltremanica. In uscita, il loro primo lavoro, che faranno ascoltare alla Rassegnavale.